Si è trattato di un errore che ha determinato una situazione temporanea di disagio, quella che si è verificata la scorsa domenica in alcune zone della città, davanti alle calotte per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. A comunicarlo è direttamente l'ufficio stampa di ERA, che risponde alle numerose lamentele dei cittadini che in questi giorni, in alcune zone di via Bologna, in particolare registra ERA, nella zona sud, nell'asse via aeroporto Krasnodar, improvvisamente le aree di raccolta rifiuti sono state invase da sacchetti della spazzatura, che non potevano essere conferiti nei cassonetti. Da quello che risulta, le calotte sono dispositivi la cui attivazione con carta elettronica viene disposta da un meccanismo remoto, che viene gestito da un'azienda tedesca. In pratica, un dispositivo che funziona come un cellulare, una carta SIM, regolamenta il funzionamento stesso delle calotte, con o senza tessera. In alcune aree della città, dunque, si sarebbe verificato tale disguido, evidenziale a molti utility, precisando che, in quelle zone, l'attivazione delle calotte con carta smeraldo è partita esattamente un giorno prima, rispetto a quello previsto dal calendario, predisposto da tempo dalla stessa era. I disguidi, tuttavia, come dimostrano queste immagini, non sono stati solo nella zona via Bologna, ma anche in altre aree della città, adiacenti soprattutto alla stazione e al polo scientifico tecnologico, dove l'attivazione delle calotte con carta smeraldo, secondo lo stesso calendario di era, è prevista per sabato 23 ottobre. Il consigliere comunale di Gol, Francesco Rendini, intanto, presenta una nuova interpellanza consigliare sull'installazione delle calotte in città, fornendo anche diverse fotografie. Nel suo documento evidenza che le calotte non avrebbero il marchio di sicurezza CIE, che, scrive ancora Rendini, dovrebbe garantire, quantomeno, la compatibilità elettromagnetica del dispositivo, in conformità alla legge. Rendini paventa inoltre il rischio sicurezza delle calotte per le stesse mani dell'utente che va a conferire i rifiuti nel cassonetto, e per questo chiede al sindaco di sospendere il servizio fino a quando era non avrà preso gli accorgimenti opportuni.